Oggi è stata una giornata che ritengo importantissima perché ho notato una partecipazione assidua di tutto il Consiglio Comunale, quindi opposizione e maggioranza insieme hanno costruito e migliorato gli atti propedeutici alla manovra di bilancio. Una manovra di bilancio che chiaramente è influenzata da questi atti deliberativi, ben 13 deliberazioni propedeutiche che hanno messo al centro tutta una serie di provvidenze, agevolazioni e esenzioni a favore delle fasce disagiate, a favore di categorie e attività precedentemente non considerate in maniera corretta, diciamo congura. Oggi abbiamo migliorato tantissimo il telaio dei regolamenti e delle norme attraverso le quali noi applichiamo poi le nostre tariffe e quello che ho notato è la grossa partecipazione, quindi ci avviamo, io credo anche fiducioso, ci avviamo a un procedimento di approvazione del bilancio previsionale nelle prossime giornate in maniera positiva. È una manovra molto complessa e articolata perché sconta un ulteriore taglio ai trasferimenti, perché sconta un ulteriore inasprimento delle regole di armonizzazione contabili e quindi con una risettezza di risorse finanziarie maggioranza e opposizione hanno condiviso tutti questi propri di venti. Quindi il viatico c'è ed è positivo, quindi immaginiamo di fare un percorso attenti comunque ad ascoltare anche le istanze che arrivano dalla sala consigliare.